Buongiorno a tutti gli amici di Montediprocida.com Questa mattina siamo qui al Parco del Benessere di Montediprocida in località Cercone per inaugurare questa bellissima struttura che se mi consentite è veramente un piccolo mio desiderio che si avvere io sono cresciuto in un campetto del genere in località Torrione, non so se parecchi come me se lo ricordano è stata un'esperienza per me di crescita e di formazione quindi l'augurio di tutta l'amministrazione è che tanti piccoli ragazzi possano altrettanto crescere in un luogo sano, custodito e piacevole come questo quindi diamo il via questa mattina a questa manifestazione che si inizierà con il Memorial Valentino Schiano prima del quale però taglieremo il nastro di questa bellissima struttura Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.